Giulia Delellis distrutta dal dolore, il lutto Giulia Delellis è il doloroso appello su Instagram per la morte di Mimi. Giulia Delellis e altri protagonisti di Uomini e Donne avevano fatto conoscere a tutta Italia la giovane Nicole, meglio conosciuta con il nome di Mimi, che da sempre combatteva contro una terribile malattia, ovvero la fibrosi cistica. Giulia Delellis. La ragazzina è venuta purtroppo a mancare proprio ieri, e Giulia Delellis e tutti gli altri hanno voluto ricordare attraverso Instagram la sua forza e il suo coraggio. In particolare il tronista di Uomini e Donne ha scritto distrutto dal dolore che poche persone avevano lasciato il segno nella sua vita come aveva fatto la dolce ragazzina, continuando scrivendo un dedica veramente commovente nei suoi confronti. Giulia Delellis, brutta giornata, è morta Mimi a causa della fibrosi cistica. Il tronista e amico di Giulia Delellis ha infatti aggiunto che ogni volta Mimi gli trasmetteva una forza enorme e che gli aveva insegnato a non arrendersi male. Giulia Delellis. La famiglia della piccola aveva infatti detto a Giulia Delellis che Nicole desiderava che i suoi bulbi oculari venissero donati a chi ne avesse bisogno, in modo che chi li aveva poteva vedere il mondo con i suoi bellissimi occhi. La famiglia della piccola aveva infatti detto a Giulia Delellis ha infatti detto a Giulia Delellis ha infatti detto a Giulia Delellis ha infatti detto a Giulia Delellis.